Bentornati rossi e rosse qui su Canel Inch2 e insieme a me come sempre c'è il buon RoboZoom94, salve ragazzi! Che ce lo stiamo proprio spolpando questo gioco! Sì perché stiamo facendo tutto in una bolla, tutto un fiato quasi! Avete visto nel capitolo precedente che c'eravamo tutto il dipartimento della Cina... Abbiamo sterminato mezza polizia di Shanghai oramai! Ecco, e adesso i due, non so dove, ma se ne stanno andando da Xiu, che dovrebbe essere la ragazza di... La ragazza di Lynch! Ah beh, sì, di Lynch! Adesso vediamo! Però che abbiamo visto tra l'altro all'intro del gioco! Sì, sì, sì! Vediamo un po' che combinano questi due mattacchioni! Mattacchioni! Xiu! Ah, Glazer! No, solo pensavo che è Xiu! Che vuoi dire, nascondermi? No, stiamo bene! Sì! Sì! Ci vediamo domani, no! Sì, allora! Sì, ciao! Ok, l'affare per domani! L'affare per domani, attenzione! Noi se non ci arriviamo al domani... A me sta di no... Ok, caricamento un po' breve... Oh, ehi, mi ritrovo già... Che punto un'arma, perché? E' Calla! Qualco! L'avevo detto di sbrigarci! Vabbè, ma quello già sta pisciato il muro, vedi? Al quarto! Ok! Non dobbiamo affrontarvi! Io direi, afferra quello lì che piscia! Sperata adesso! Solo l'hanno toccata, giuro che... Ho preso, ho preso... Non dovevamo affrontarli, però... A noi non ci frega niente! Ma tanto... Questo è un gioco dove affronti la gente! Che fai? Non l'affronti! Eh... C'è uno con la maschera simpatico... Ok, non c'è più... Spera! Ma questo, pur di sparare a me, ha colpato il compagno... Vieni! Nel portone! Non è tipo fregato! Dov'è il portone? Questo? Questo! Tutti uguali, sto portone? Sì, tutti quanti col portone del Resident Evil... Non agi... Ma dobbiamo farlo! Facciamolo bene! Io vado a sinistra, non dall'altra parte! Sinistra? Io sinistra! Quindi tu dovresti andare... Da una parte o da un'altra? Ah, ma già stiamo da una parte o da un'altra? Ci siamo di un stretto! Vieni le scale! Vieni le scale! Ok, ecco le scale! Mi raccomando, non moriamo perché in quest'azione così in singolo non possiamo... Cato, non ci siamo mai tornati a curare! Non ce l'avremmo mai fatta! In effetti! Non funziona questo gioco! Eh, è arrivata... L'altro l'ho colpato un mero! No! Pazza la testolina! Ah, tu stai già pieni di sopra, per un attimo a fraternizzare quelli del piano da sotto. Fraternizza bene. Più ha trovato la K. Ah, sì? Eh, sì. Pensano i miei compagni, che ti vogliono sparare. Eh, mi sto più a cuore io che... E' uno con la panza al vento che è venuto qui a... Ah, vedi? Siamo riuniti, hai visto? Ok. E' ora di cambiare il ferro. Faura, non fermarti! Non fermarti! Ho sciogliato! Dove andiamo? Ah, ok, eccolo qua. Il solito portone di Resident Evil. Cancello! Un'altra volta! Intanto ho mollato la giacca per stare... ... sulla comoda cannottiera, anch'io. Giustamente. Cerco di ambientarmi. Basta che non se la tiri su come fanno loro. Mai mettersi contro Shang-Chi. Te e te sta piso. Mi è partita tipo una padella a fianco. Quello col cortello in mano, andiamo. Io voglio sapere che ci fa una vasca da bagno qua. Così in bella vista. Meno male che sei entrato. Ti rischiate di reizi? Sì, sappi io. Andiamoci. Lasciamo il paese. Quello stronzo di Shang-Chi controlla la polizia e Sing. Non abbiamo speranza. Non vado da nessuna parte senza di lei. Non sarà lontana. Ascoltami, Rich. Se ami questa donna, devi starle alla larga. Non può essere vero! Eccolo là. Eccolo. Ma perché restiti tutti di bianco con i vetro pirattici? Questi sono razzisti. Io non vale di niente, però. Però quella è scappata, eh. Aiuto! Stai a cercare di abbattere il palazzo. Non puoi entrare. Però avete rotto il... L'abbattamento della... Su ragazza. Dove stiamo andando? Dove sti c'hanno il FAMAS? Di qua. Infatti, se si torna col FAMAS... Manz! Sì, FAMAS. Il capo ha mai durato niente. Ce l'hanno due babbeio e puzza. Ah, cavolo. Va. 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 Ti sto ficcando la pistola là in testa. Aiuto! 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 E com'è? Dove va? Ma è chi? La ci vedi? Trocca... Coprirla. Ok. Dall'altra parte! Oh. Lo faremo! Lo faremo! Eh, però pure lei. Va da loro. Ma che sta facendo? Lei si è regrappata. Cosa? Ma cosa sta facendo? Bene! Pensiamo agli altri! Oh, zitta zitta però, le agili come un gatto Questa è fight, quella di Mirror Raid Hai capito, ha un futuro come Acrobat Ma che è sta roba? Andiamo alle porte Ma come l'hanno presa? Si capisce una ceppa con queste luci di merda, te droga Dov'è? Dov'è l'uscita? Canaver, giù, giù, giù Arrivo Ah, proprio così ha aperto la porta sede Proteggila Eh, chi me protegge a me? Stiamo a caschetto Arrivato l'amico La prima volta è funzionato L'abbiamo fatta Non devono colpirla Dov'è cacchia, andiamo Vai, vai Arrivo Che dì, d'arrivo ma Abbiamo la controlla, guarda questa No, non è vero No, non è vero Non perdere il controllo Va Aiuto Aiuto Madonna quanti sono Aiuto Eh, pure io aiuto Siamo morti Madonna Sei una ragazza, ragazzi Calma, calma Cambio arma Occhio Arrivo Non è vero Vi amano travi Non è vero Vi ammazzano tutti Forza Se la toccano Li ammazzo tutti Lei è la mia vita Non la uccideremo Vogliono noi No, no Shang-Chi vorrà vendicarsi Ai via Porca Eh, sono arrivato io Mi ho cromaticamente schiattato Madonna Casino Sto lì e non ce lo faranno su da E non su Ancora queste barri No, non è vero Caso lì Non le fareste barri Sembra Tony Montana Non la uccideremo Tranquillo Vogliono noi No, no Shang-Chi vorrà vendicarsi A me serve un arlo Non ci darà Ci ammazzerà tutti Vieni qua Capuccino Vieni qua Capuccino Vuoi un voltino La do io Intanto sei rimasto quassù Non si sa mai Qua ci uccino Don't shoot me Sì? Don't shoot me Allora ai tuoi amici Digli qualcosina Sono dei movimenti Surreali Non esistono Glere di Tradicional Ah, dopo Journal Uccideremo Coselle Nooo Salve Sinveremo Noi so, adesso Sono morti tutti No, no Sarema stambita uno Eh, finito Chozzo ma che scemo ma il cameraman come sta riprendendo queste scemo è già un altro capitolo senti il suono di sottofondo i suoi i suoi si sa bestemmena ramai guarda il sangue e i coltelli madonna Grazie a tutti